E ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone, come potete vedere non sono da solo, perché credo che lo possiate notare abbastanza Infatti sono nella stanza di Andrea, Black Geek Tutorial, gli ho rubato la casa, tutto, la vita eccetera Perché questo è il primo episodio di Newstack della settimana, non che facciamo assieme, perché li facciamo tutti quanti tutte le settimane Tutte le settimane, non ci siamo persi, ma la settimana ce la siamo persa, però siamo sempre bravi a mantenerla Comunque insomma, abbiamo fatto sempre robe dei Newstack della settimana sempre assieme, però questa settimana siamo proprio fisicamente qui Non ci credete? Volete che io gli tiri un pugno? Così adesso ci credete? Siamo vicini, vabbè? Non è un green screen Non è un green screen, madonna quanto sarebbe figo però riuscire a fare un green screen così perfetto Eh, porca miseria Comunque, prima di iniziare con il video vi ricordo di lasciare un mi piace qua sotto, cerchiamo di arrivare A quanti mi piace arriviamo? 500? 1000 like Ma quando mai? Vabbè, cerchiamo di arrivare a tot like e rispondete, mi raccomando, alla hashtag DDG che trovate qua sopra di noi Posso farla io? Dai Allora, visto che parleremo di una notizia riguardante i nuovi Surface di Microsoft, direi che la domanda del giorno è Secondo voi è meglio il Surface di Microsoft oppure i nuovi MacBook e MacBook Pro presentati quest'anno da Apple? Mi fai proprio male, sul mio canale fai proprio il flame C'è un po' di flame Va bene, dai, questa volta glielo lascio fare Comunque, senza perdere altro tempo, iniziamo subito con il video news di questa settimana Quindi più o meno l'avete già sentito nella domanda del giorno, parliamo dei nuovi Surface laptop che sono stati presentati da Microsoft proprio qualche giorno fa e con essi anche Windows 10 S che ci permette di capire appunto che questi nuovi Surface oltretutto sono anche dei laptop touch Da utilizzare però, ho visto con due mani, ho visto in un annuncio che si fa un po' di fatica con la penna a utilizzarli con una sola mano Bisogna tenerlo Esatto E tanto per smontare poco poco il MacBook Pro, visto che non siamo assolutamente di parte, il Surface laptop più potente è più potente del circa 60% del MacBook Pro più potente Touche Questo laptop vuole andare a puntare su una fascia media del mercato, anche se il prezzo non è proprio di una fascia media Però anche l'hardware, devo dire che è abbastanza importante, soprattutto nelle configurazioni più elevate Sia la tastiera in alluminio e Alcantara, sia lo schermo in 2K... sì, davvero in Alcantara Alcantara? Sì, alla superficie in Alcantara, non chiedo Sia il display in risoluzione 2K con 201 ppi di densità, ci fa capire che anche il prezzo non sarà proprio il più basso possibile Ma ne parliamo dopo, parliamo anche di qualche specifica che riguarda un i5 nella fascia base e un i7, 7500U in quella più potente Con addirittura 16 giga di RAM Ma la cosa che premeva di più a Microsoft presentare è questo 14,5 ore di autonomia sotto stress Per quanto riguarda la batteria, io onestamente fino a quando non lo proverò non ci credo manco più 12 ore sono veramente, veramente tante Assolutamente Soprattutto non durante un utilizzo normale, ma durante un utilizzo stress Se per stress intendiamo editing, lavori grafici È molto difficile se fosse così Esatto Inchino supremo Esatto Da tutto il mondo dei portatili Anche perché è spesso soltanto 14 mm E mi sembra davvero strana questa cosa Però c'è da dire una cosa Microsoft ha proprio spiegato che questo laptop non è dedicato all'editing o al gaming o quello che vi pare Ma proprio agli studenti universitari che Sì, ma gli studenti universitari, non so te, ma 2560 euro Non ce li spendono Non ha senso spenderli Anche se in effetti il Surface Laptop base costa 1169 euro Che per avere un i5 È già un prezzo più abbordabile Magari uno studente si tratta un po' meglio Esatto Anche perché è compatibile con Surface Pen E tutta quanta la schiera di accessori di Surface Che ci sono anche nel Surface Studio È esteticamente, secondo me, è davvero bellissimo Poi è pieno di colori particolari Insomma, secondo me 1169 euro potrebbero davvero essere molto interessanti Renderlo in un laptop competitivo al passo che i tempi Mirato comunque a un target interessato a comprare computer Esatto, perché comunque Molto portatili che stiano in zainetti anche piccoli Esatto, anche perché comunque stiamo parlando pur sempre di un 13,5 pollici Insomma, voi che cosa ne pensate? Secondo me potrebbe davvero essere abbastanza interessante Più che altro appunto per un utilizzo che Microsoft ha specificato Quindi non ha puntato Eh, questo laptop sarà per professionisti Ha detto no È per gli studenti Ok Fatecelo sapere Con la domanda del giorno Ma passiamo subito alla prossima notizia Che riguarda una BMW Sì Voi direte Una BMW in un canale di telefoni Siete diventati ancora più ricchi Adesso vi siete messi a comprare le macchine Esatto E anche che BMW E anche che BMW Perché si parla di una BMW che in realtà non è ancora uscita È stato presentato, svelato un prototipo Si tratta della BMW Serie 7 Che comunque esiste già Ma non in questa versione Con la tecnologia iNext Probabilmente alcuni di voi sapranno già di cosa si tratta La tecnologia iNext è realizzata in collaborazione tra BMW e Intel Notissima marca di processori Che probabilmente montano su tutti i PC da cui ci state guardando Il fine di questa collaborazione tra due brand così distaccati Si dovrebbe portare Intel a fornire a BMW il materiale necessario Quindi si tratta di processori Che elaborerebbero dati Che provengono da varie fotocamere piazzate in punti strategici dell'automobile Per garantire una guida perfettamente autonoma 100% pilota automatico Sì perché in effetti adesso abbiamo alcuni assistenti Per esempio l'assistente di corsia o roba del genere Questo invece sarà proprio tutto quanto volto allo sviluppo di una guida 100% autonoma Quindi senza neanche l'intervento sul volante dell'autista Quindi il prototipo Ricordiamo che adesso si tratta di un prototipo Della BMW Serie 7 È stato presentato all'Advanced Vehicle Lab di San Jose Alla Silicon Valley Siamo tutti ansiosi di vedere cosa porterà questa collaborazione tra Intel e BMW Sicuramente potrebbe fare un ulteriore passo avanti in quello che è il percorso Ancora lungo secondo me che abbiamo davanti Per ottenere automobili con l'autopilota 100% attivo Sì perché l'ultimo esperimento è stato fatto da Google con le Google Car E su una novantina di Google Car 90 si sono schiantate incredibilmente No davvero Si sono tutte distrutte Perché sono quelle che seguono al 100% tutte quante le regole della strada Mentre invece ovviamente gli altri automobilisti non le seguono Sono macchine che funzionerebbero in un mondo diciamo utopico Esatto Di tutte quante auto autonome Però è una cosa davvero molto interessante E che ci dà la possibilità di dare un bello sguardo al futuro Specifichiamo comunque che le macchine di Google Appunto come ha detto lui Si sono schiantate tutte quante per colpa di stupidi umani Che non hanno rispettato il codice della strada E gli sono venuti addosso Google ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda Piroto automatico e mappatura delle strade Tutto quello che sappiamo Ma torniamo un attimo con i piedi per terra E torniamo al presente Ci state tutti quanti vedendo ovviamente da YouTube E quindi parliamo proprio di YouTube No non parliamo del problema delle Della ad apocalips Beh quello devo dire che c'è un video che ne parla Due video che ne parlano tanto E che vi consigliamo di vedere Quello di Shy e quello di quei due sul server Se siete degli YouTuber A maggior ragione vi consigliamo di guardarli Perché riguarda un po' tutti noi Li trovate nella scheda qua sopra E parliamo però in questo caso del nuovo look di YouTube Siete stufi del solito look? Da quanti anni esiste oramai? Esiste da inizio 2013 Credo proprio di sì Beh YouTube finalmente vuol far fare un bel passo in avanti Alla grafica del suo sito E non soltanto rendendo molto più lineare Lo state vedendo in questo momento Tutto quanto il design Nella sua versione bianca Ma finalmente Cosa che Apple dovrebbe imparare Nella sua interfaccia grafica Orchè a miseria Ha introdotto O comunque introdurrà Il nuovo Dark Mode La modalità scura Che vi consiglio di andare a vedere Se la volete vedere in anteprima Per vedere bene di che cosa stiamo parlando Appunto guardate qua sotto in descrizione Perché c'è un link YouTube.com Slash new Esatto Dove potete appunto vedere come evolverà L'unica cosa che non sappiamo è Quando arriva Ma YouTube vedrai che a sorpresa Un giorno te la butta fuori Io mi ero sempre chiesto Per quanto riguarda la modalità cinema Per chi non lo sapesse Lo starete vedendo ora La modalità che ti cambia le proporzioni del player Dovrebbe farti il video un po' più grande Una via di mezzo tra lo schermo intero e il player Sui siti streaming sconosciuti Ti cambia i colori E rende il nero il colore dominante Qual è la cosa logica fare Su YouTube invece Tutto bianco Semplicemente aumentava Quindi finalmente YouTube ha introdotto Che è una modalità cinema A me ricorda un po' lo stile di Netflix Ma è Netflix È praticamente Netflix È un ribrande di Netflix Esatto Netflix e Plex si sono fusi Perfetto Ed è nata la nuova UI di YouTube Esatto Quindi queste erano le mie tre news Per questa settimana Ma ovviamente vi ricordo che Qua sotto in descrizione Trovate il link del video di Andrea Grande amico nonché collega Grande amico nonché collega Andrea Bentivegna Che ha fatto uscire sul suo canale Black Geek Appunto un video complementare a questo Quindi qua sotto in descrizione Nella scheda qua sopra Dedicata Potete vedere il video di questo Questo soggetto Che se non lo andate a guardare Vi verrà a trovare la notte E vi farà male Quindi Grazie mille per essere arrivati Fino alla fine di questo video Noi ci rivediamo In un prossimo video Sempre qui Sul mio canale E ancora una volta Un saluto Da Simone E da Andrea Meno male che ha capito Che doveva dire È da Andrea Perché sennò L'avrei ucciso Quindi Ciao ragazzi Ciao Ciao